Ciao a tutti, ecco l'ultimo quadro su cui sto lavorando in questi giorni. Vi mostro qualche passaggio. Questa è la mia tavolozza e come vedete è abbastanza sporca perché ogni volta che mi serve risciolgo i colori secchi e li riutilizzo. Ho risciolto questo rosa che stendo su tutto questo palazzo e poi scurendolo intervengo nelle parti in ombra. Sciolgo poi un colore scuro e lo utilizzo per fare le ombre delle finestre. Ecco, questo lavoro va applicato a tutta questa parte ancora. In realtà però almeno su questo lato ho già finito. Anche se in realtà sotto mi manca ancora il molo eppure il mare. Insomma c'è ancora un po' di lavoro da fare però dai, la metà è superata di sicuro. Torno a fare palazzi. Intanto vi auguro buona Pasqua, buone feste e buona pittura. Se in questi giorni vi metterete a dipingere o a disegnare. A presto, ciao!